Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare un'estensione di Chrome molto utile per accorciare gli URL da browser. Andate in web store di Chrome, scrivete abbreviazioni URL, viene restituito un primo risultato che è quello che è utile, cliccate su e qui vi verrà chiesto di aggiungere l'estensione e la aggiungerete. Dopo averla aggiunta ricordatevi di andare nell'estensione e di affissarla con la puntina in modo che compaia nella vostra barra. Vediamo ora come, su un sito qualsiasi, come funzioni. Ho aperto qui una mappa di Mindomo, vado sull'icona, clicco e in poco tempo mi restituisce quindi l'indirizzo accorciato di questa mappa e anche un codice QR. Buonasera.